Un caro saluto da Diego Fusaro. Quad erat demonstrandum, come voleva si dimostrare, è subito partita prontamente l'assordante quanto fastidiosa retorica secondo cui il maschio in quanto tale è violento e omicida. È partita ovviamente in relazione all'orrendo e condannabile sotto ogni profilo omicidio di Giulia Cecchettin, la giovane ragazza trovata morta nei giorni scorsi, uccisa vigliaccamente dal compagno e come previsto è partita, dicevo, la retorica che cerca in qualche modo di colpevolizzare l'intero genere maschile. A essere protagonista in questo senso è stato tra gli altri il cantante Piero Pelù, il quale sul suo profilo Facebook ha pubblicato una foto della giovane con la seguente scritta che leggo testualmente mi vergogno di essere uomo, siamo tutti da rifare. Ecco, è interessante questa aberrante narrativa, mi vergogno di essere uomo, come se in qualche modo chi partecipasse platonicamente dell'idea di uomo dovesse perciò stesso essere omicida e apparentato a chi vigliaccamente ha ucciso la ragazza. Siamo tutti da rifare, si insiste universalisticamente sul tutti, cioè su tutti gli esseri umani di sesso maschile. È una retorica insopportabile perché ovviamente questo omicidio è orrendo e condannabile, ma ugualmente orrendo e condannabile è la pretesa universalizzante fatta valere in questo caso da Piero Pelù, secondo cui tutti gli uomini, ossia tutti gli esseri di sesso maschile, in qualche modo sarebbero responsabili. A tal punto che dovremmo, secondo il savio Piero Pelù, vergognarci di essere uomini perché siamo tutti da rifare. Ecco, è una narrativa demenziale, lasciatemelo dire, in primo luogo perché è una universalizzazione indebita. Non tutti i maschi sono assassini e violenti, anzi la massima parte dei maschi sono in prima linea nel condannare questo omicidio e non torcerebbero mai un cappello a nessuno. Ma è una retorica coerente con l'ordine del global capitalismo, come abbiamo detto, il quale vorrebbe creare uno scontro orizzontale tra maschi e femmine, colpevolizzando il maschio in quanto tale. Pura ideologia, puro liquame ideologico e in questo caso mi verrebbe da dire che sarebbe meglio se Piero Pelù si limitasse a cantare.